Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco seguia quando parla di sinistra-destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 basta. Benvenuti a Carta Canta. Due parti, la prima, lo scempio, il degrado, l'inciviltà, la mancanza di sicurezza del lungo fiume di Teramo. Chiudetelo, per cortesia chiudetelo. Non parlo dei cani liberi che scorazzano, cani anche pericolosi come razza. Non parlo perché non c'è controllo, quindi è inutile. Gli unici due vigili sono stati visti, avvistati, circa 30 anni fa, sul set Peppino alla Mala Femmina, alla Mala Femmina, non ci ricordiamo, chiedevano un'indicazione a due vigili urbani, al vigili urbano di Teramo, per andare dove dobbiamo andare. Una festa tra studenti, tra ragazzi, distrutto completamente il lungo fiume di Teramo, vicino all'asilo. Guardate questo video. Guardate il ponte. Ci è passato un cavallo. Sì, perché ci passano i cavalli adesso, lungo fiume di Teramo, con tutti i loro regalini, fagottini. Ci vuole un carretto per raccoglierli. Questa è inciviltà e in maleducazione, ma esiste non solo per quelle persone che compiono questi reati, perché sono reati, ma perché non c'è più controllo, non c'è sicurezza. Andiamo avanti. La gestione del campeggio del Ceppo. Il comune è Rocca Santa Maria. L'amministrazione ha ricevuto una raccomandata di recente. Ve la leggo. Chiedono una risposta per iscritto, sulla motivazione per cui sono stati esclusi dal partecipare alla manifestazione di interesse per la gestione del campeggio in frazione Ceppo. Certi di un vostro pronto riscontro, porgiamo distinti saluti. Era il 12 giugno di quest'anno. Ci sono state molte domande. Alcune accettate, altre rifiutate. Domande facili da compilare. Tutte uguali? Le abbiamo qui. Possiamo scegliere. Cambiano di un nulla, di niente. Di partecipare con la seguente forma giuridica. Società, amministratrice società, società, legale rappresentante della società, amministratore della società, società. Come mai? Alcune sono state accettate e altre no. È il termine prorogato dal 20 al 24. Piccole domande che aspettano grosse risposte. Carta canta.